Mio padre è morto. È morto quando veramente poteva vivere, quando anch'io lo avrei lasciato vivere. Bene. È morto in un giorno di novembre, un giorno freddo e nuvoloso, sulla sua poltrona, appena rientrato dalla città, dalla sua passeggiata mattutina. Il cuore gli si è spaccato dentro, si è lacerato di un colpo e lo ha ucciso. Quel cuore che aveva sopportato tante scosse, tante botte, tanti dolori, quel cuore nel momento in cui tutto era a posto, tutto andava bene, l'ha tradito e lui se n'è andato per sempre. È morto. Ricordo come fosse oggi quel giorno, la telefonata di mia madre, la corsa fino a casa loro e l'ambulanza ferma con le luci spente sotto casa. Ricordo mia madre venirmi incontro con il viso pieno di lacrime dicendomi è morto, è morto e Dio che non capivo. Poi ricordo mio padre, il suo corpo, la sua tuta scura e quando gli accarezzai la fronte e la baciai, il suo corpo era ancora caldo, vi era ancora un filo di vita in lui. Poi immediatamente tutto divenne freddo. Lui era ancora lì, nella sua camera, nel letto grande, quello del suo matrimonio. La sua vita terrena era finita e ora per lui ne iniziava un'altra. Ripenso al suo funerale, pieno di gente, di persone, di amici, di condoglianze, di strette di mano, di lacrime, di baci. E poi quando uscimmo dalla chiesa, il sole filtrava attraverso le nuvole e guardai in alto e pensai che era bello, che mi piaceva l'idea che lui fosse salutato da un esile e debole raggio di sole. Durante la funzione vogli leggere uno scritto e ricordo che piansi molto quando decisi di infilarne la sua giacca una copia di ciò che avrei letto il pomeriggio. Lo salutai per l'ultima volta, per l'ultima volta mi trovavo da solo con lui e per la prima volta mi sentivo con lui. Fu dolorosissimo e nello stesso tempo fu un momento che non riuscirò a scordare mai. Ero con mio padre. Ero con mio padre. Spesso lo sento, sento la sua risata, sento il suo sguardo e non mi impaurisce più, ma mi dà forza. Spesso lo chiamo, lo cerco, parlo con lui. Spesso lo amo moltissimo, mio padre. Il mio papà è morto. Che terribile potere ho avuto nei confronti dei miei familiari. Li avevo in pugno. Eravamo tutti legati, mani e piedi. Io ero la vita. Io ero il loro stare bene e il loro stare male. Io ero il sorriso e il pianto. Io ero tutto per loro. Ed era così. Loro vivevano. Se io vivevo. E ho continuato fino alla fine, abusando come non mai, usando e violentando il loro bene, fino a quando non stavo più in piedi, fino a quando il mio cervello andava per conto suo. Fino alla fine. Ero ridotto a pezzi. La mia ragione era scompare se non esistevo più. ero arrivato alla fine della mia corsa. Se avessi continuato, sarei morto. Ne sono certo.